Il 2022 è andato in archivio e con l'inizio del nuovo anno per il calcio e tempo di preparazione in vista dei prossimi impegni. Dopo la sosta natalizia, San Cataldese e Nissa torneranno in campo domenica prossima 8 gennaio per la prima partita del 2023. La squadra di Pietro Infantino, impegnata nel girone I di Serie D, riparte da Sant'Agata, dove alle 14.30 di domenica sfiderà i padroni di casa in un appuntamento che si presenta pieno di insidie. La squadra messinese, infatti, è in quarta posizione, in piena lotta per la parte nobile della classifica e ha soli tre punti dalla seconda piazza. I Verdamaranto riprenderanno in settimana la preparazione per presentarsi nel migliore dei modi e ricominciare con il sorriso dopo l'ultima recita del 2022 disputata a Paternò e terminata con il risultato di parità. In casa Nissa, invece, nel girone A di eccellenza, si guarda il nuovo anno con ottimismo e domani alle 15 la squadra si ritroverà per il primo allenamento del nuovo anno per iniziare così l'avvicinamento alla partita di domenica prossima contro la matricola a Casteldaccia. La squadra del tecnico Alessio Sferrazza ritroverà il campo dopo l'ultimo appuntamento del 2022 in trasferta contro lo Sciacca, finito con il risultato di 1-1. Il prossimo fine settimana schiuderà il sipario a un gennaio molto intenso per la società biancoscudata che vedrà soprattutto l'arrivo allo stadio Marco Tomaselli della capolista Acragas per la partita più attesa del mese da tutto l'ambiente.